Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG di CronTV. Polveri sottili da tre giorni sono sopra i limiti dei 50 microgrammi per metro cubo. Le centraline di ARPA Lombardia hanno rilevato un valore medio di 58 microgrammi a metro cubo. Sentiamo. Ritornano allarme inquinamento in città. Le polveri sottili da tre giorni sono infatti sopra i limiti dei 50 microgrammi per metro cubo. Le centraline di ARPA Lombardia hanno rilevato un valore medio di 58 microgrammi per metro cubo. Al momento non è prevista l'attivazione delle misure di primo livello, visto che nelle prossime ore è previsto l'arrivo della pioggia, una perturbazione che dovrebbe restare su Cremona fino a sabato e anche se il tempo guasterà in parte i programmi di chi in questi giorni sarà in vacanza, almeno potremo tornare a respirare aria se non pulita, meno inquinata. Una donna ieri è stata scippata della borsa all'interno della propria auto parcheggiata in via Navigatori Padani nel quartiere Po, il servizio? Nessuna ferita ma un grande spavento per una donna che ieri è stata scippata della borsa all'interno della propria auto parcheggiata in via Navigatori Padani nel quartiere Po, il fatto è avvenuto attorno alle 19.30, grazie ad un passante la donna è riuscita a recuperare un mazzo di chiavi o rossetto, prevedibilmente del portafogli invece non c'era più traccia. La donna ha lanciato un appello sulla pagina Facebook di Non sei cremonese se per chiedere aiuto ai residenti della zona per tentare di recuperare altri oggetti o la borsa di cui probabilmente il ladro si sarà comunque liberato. Treni Brescia chiede un collegamento con Cremona ogni 30 minuti mentre il governatore della Lombardia Fontana è pronto a riprendersi la governance delle infrastrutture se RFI non presenterà un piano di rilancio. Bibiana Sudati Collegamenti ferroviari ogni 30 minuti sulla tratta Cremona-Brescia. La richiesta questa volta non viene direttamente dai pendolari che pure la sostengono ma dalla politica. È infatti stato l'assessore alla mobilità del comune di Brescia Federico Manzoni a richiederlo. L'interlocutore di questa partita è come sempre RFI che già ha investito in questo senso sulla linea Brescia-Edo Luiseo ottenendo netti miglioramenti ed incrementi di utenza. Sulla base di questo modello, ora Brescia, fiaccheggiata da Cremona, chiede un aumento del cadenzamento su tutte le direttrici tra cui corso ogni 30 minuti sulla Brescia-Cremona. Intanto su questo fronte si sta già muovendo il neoeletto governatore Attilio Fontana che annuncia l'intenzione di incontrare l'amministratore delegato di RFI con l'obiettivo di chiedere conto circa il progetto di sviluppo della regione. Un piano industriale a 10 anni per recuperare il gap tecnologico e strutturale. In caso contrario il Presidente ha intenzione di rivedere la governance e farsi restituire la rete regionale per poter investire direttamente. E mentre la politica si muove anche i pendolari tramite i loro comitati non mollano la presa. Il comitato in orario ha chiesto ai consiglieri regionali neoeletti un incontro. Sul tavolo tutte le criticità che quotidianamente affrontano i pendolari delle linee cremonesi e le loro proposte. Queste sono le immagini della processione della Santa Messa del Crisma di questa mattina con tutti i sacerdoti della Diocesi. Questo pomeriggio la messa in cena domini con la lavanda dei piedi. Domani venerdì santo l'azione liturgica della passione e morte del Signore. Dalla sera la tradizionale processione cittadina della Sacra Spina. Poi sabato le 21.30 la solenne veglia di Pasqua con la liturgia della luce. Domenica giorno di Pasqua dopo impegno per il Vescovo messo in carcere alle 9 e poi in cattedrale. Il solenne pontificale alle 11.00. Un operaio è morto forgorato la scorsa notte mentre lavorava in area ferroviaria per la manutenzione della linea elettrica nei pressi di Bivio Navile alla periferia di Bologna. La vittima aveva 56 anni. Era originario di Napoli e lavorava per una ditta paltatrice, la Sifel. L'incidente è avvenuto intorno all'1.40. L'uomo sarebbe stato folgorato da una forte scarica durante i lavori di manutenzione della linea elettrica nei pressi di Bivio Navile nel nodo di Bologna. Per accertare cause dinamica precisa dell'incidente è stata avviata un'inchiesta interna da parte delle ferrovie. Saranno 10.000 in 5 giorni gli agenti delle forze dell'ordine in campo per garantire la sicurezza a Roma in occasione delle festività di Pasqua. Si è tenuto nel pomeriggio di ieri un tavolo tecnico in cui è stato messo a punto il piano che nell'arco di 5 giorni a partire da oggi prevede l'impiego di 10.000 uomini H24 per garantire la sicurezza sia del quotidiano della capitale che dei 7 eventi di rilievo preseduti dal Santo Padre, doppia area di sicurezza per la Via Crucis al Colosseo di domani sera e per la Messa di Pasqua a San Pietro, entrambe celebrate dal Papa con barchi d'accesso e metal detector, 9 i barchi controllati con metal detector per la Via Crucis e 7 per l'area di San Pietro. Sorvegliata a speciale la Green Zone nel centro storico dove le forze dell'ordine saranno supportate da un reticolo di telecamere di videosorveglianza che conta oltre un centinaio di apparati. Un veicolo ha tentato di investire oggi alcuni militari del reggimento di artiglieria a Varsa-Alier-Erisse nella regione dell'Isère poco lontano dal confine con l'Italia. In Francia lo si apprende da fonti della polizia, nessun ferito, nel tentativo di attentato l'individuo del veicolo è in fuga. I giudici della Corte Penale di Bruxelles hanno ascoltato oggi le ultime memorie relative alla costituzione di parte civile di un'associazione delle vittime nell'ambito del processo a Salah Abdeslam, unico sopravvissuto degli attacchi di Parigi, e Sofiane Ayari, complice con cui si nascondeva a Bruxelles. I giudici hanno annunciato una sentenza per il 23 aprile alle 8.45. I due devono rispondere per le tentate uccisioni di agenti di polizia in un contesto terroristico e di possesso illegale di armi, mentre erano barricati in un appartamento a Rue du Dris, a Foret, un quartiere di Bruxelles, il 15 marzo 2016, pochi giorni prima degli attentati nella capitale belga. Ciao mondo, indomito cuore grigiorosso è fra i simboli più importanti della nostra storia. La Cremonese sul proprio sito omaggia con un lungo ricordo la figura di Emiliano Mondonico, scomparso oggi all'età di 71 anni, geniale, ribelle, strionico, si legge, era amatissimo dai tifosi grigiorossi con i quali ha condiviso passione, gioie e trionfi. La città di Genova è pronta ad ospitare il match di Coppa Davis di tennis tra Italia e Francia, valido per i quarti del World Group 2018, in programma dal 6 all'8 aprile, e la sfida di Fed Cup tra Italia e Belgio, valida per i play-off promozioni in programma il 21 e il 22 aprile. La macchina organizzativa è al lavoro per preparare al meglio i due appuntamenti che vedranno in campo gli azzurri guidati da Corrado Barazzuti e le azzurri guidati da Tatiana Garmini. Questa per noi era l'ultima notizia, il TG torna come sempre martedì alle 18, per questi giorni invece pasquali vi lasciamo come consuetudine dei giorni di festa alle Good News. A tutti voi, migliori auguri dalla redazione di CronTV di una buonissima Pasqua. Arrivederci.